L'atelier G di Oborri è stato premiato con un importante riconoscimento, i tre diamanti d'oro, un riconoscimento molto importante che colloca l'atelier tra i più importanti in Italia. Sì, mi ha colto di sorpresa, non sapevamo niente di tutto questo, è stato fatto in incognita e questa agenzia che ha fatto questo sondaggio si chiama Uala, che tra l'altro stiamo aspettando. In incognita hanno visitato il salone di Montevarchi, uno dei dieci saloni, hanno evidenziato delle qualità eccelse da parte delle mie ragazze, del gruppo, non so chi c'era in quel momento, ma una delegazione di persone hanno frequentato i 100 saloni più importanti in Italia ed hanno riempito delle schede dando una loro valutazione che sentiremo tra qualche minuto quando loro arrivano, le cose belle che hanno segnalato. Dunque io sono contento che questo salone, che è il mio quartier generale, ma io ogni giorno giro ogni mio salone, dunque questo che doveva essere il mio salone di rappresentanza, che è l'atelier, è stato premiato e dunque sono contento e condivido questa felicità con le ragazze che vivono in questa realtà. Un riconoscimento importante che arriva a coronamento di una carriera pluriennale. Sì, sono 43 anni di lavoro, ancora con grande entusiasmo, addirittura progetti nuovi che si sono conclusi anche questa settimana, cose molto belle e interessanti che mi danno la gioia per poter mantenere l'energia che ci vuole per stare oggi in questa dimensione. La parola d'ordine del tuo lavoro può essere qualità? Soprattutto, anche perché devo produrre qualità per la categoria, perché io faccio il testimonial di Vella e Vella è l'azienda leader nel mondo dei capelli e della bellezza ed io come testimonial devo procurare e creare bellezza innovativa per la categoria dei parrucchieri. Prima di iniziare questa intervista ti ho chiesto, Egidio, questo salone, questo luogo a Montevarchi si chiama salone o atelier? E tu mi hai detto atelier, perché fin da giovane hai avuto questa voglia di emergere, di differenziarti? Sì, perché quando ero ragazzino queste parole un po' francesi riempivano un po' la bocca e sembra che dire atelier va in un posto ancora più prezioso e io ho fatto sì quest'atelier con tutti i comfort e le bellezze che potevo rappresentare nel momento che l'ho fatto ed è ancora molto attuale e moderno, ma è un atelier per dare alla cliente un servizio eccellente in un negozio molto grande, con tutti i comfort, con tutti i prodotti di qualità, ma ad un prezzo semplice. Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a scegliere anche questo atelier? Beh, l'atelier Egidio Bori è certamente fra i sei, perché abbiamo scelto solamente sei saloni in tutta Italia, sei artisti che sono stati insegnati con i tre diamanti d'oro. I criteri sono semplici, si va dalla cura dell'esperienza all'interno del salone, quindi proprio dell'esperienza della donna o dell'uomo, in questo caso un salone per donne, all'interno del salone. Il salone è una casa, il salone non solamente parla di bellezza, ma c'è proprio un'attenzione al cliente incredibile, questo è uno dei criteri. C'è poi chiaramente tutta la parte che riguarda la maestria nel taglio, nello stile e soprattutto in questo caso quello che ha caratterizzato la scelta del maestro Bori fa riferimento all'estro, alla genialità, alla sua capacità di metterci sempre qualcosa in più, qualcosa anche di sfidante rispetto magari a degli stili un po' più classici. Non a caso Egidio ogni giorno, ogni settimana, tutto l'anno, è in giro fra i palchi più importanti d'Italia a mostrare la sua bravura e il suo stile. Grazie per la visione!